Cerchi un'esperienza incredibile da vivere sulle Dolomiti in autunno? E allora aspetta che calino le tenebre e parti per un trekking alla ricerca del bramito del cervo. Siamo in Val di Sole in compagnia delle guardie forestali che ci spiegano tutto sulle abitudini dei cervi e ci accompagnano in un trekking notturno. Rigorosamente in silenzio e con le luci abbassate per poter ascoltare i rumori della natura. E dopo circa 40 minuti di cammino arriviamo a Malga Fratte dove ci aspetta una super cena a base di prodotti tipici. La vera avventura però inizia dopo il dessert quando tiriamo fuori le termocamere e usciamo alla ricerca dei cervi. Noi siamo stati fortunati e ne abbiamo avvistati parecchi, sentite il loro bramito. È davvero un'emozione unica! E tu? Hai mai vissuto un'esperienza come questa? Seguimi per altri consigli di viaggio!